4, 3, 2, 1, vai, destra 5 lunga 50, per destra 3 chiudi, in sinistra 5 veloce, in sinistra 5, al pivio, sinistra 5 veloce, al pivio, destra 4 50, per sinistra 4, per destra 5 100, accenna sinistra, 2, 2, 2, 2, 2, 1, vai, destra 5, attento, 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 la rete, c'è la barriera di ingresso destro, per destra 5, tra le case 100, accenna destra, accenna destra, poi accenna sinistra, 150, per sinistra 4, scollino e sinistra 3, scelta a sostar centro, accenna destra, e attento all'ingresso stacca destra e sinistra, attento all'ingresso stacca destra e sinistra, scendi, destra 3 lunga, e al porticello per sinistra 2 sale, per destra 4 non tagliare, destra 4 non tagliare in sinistra 4, a cello sinistra, a cello destra, per destra 4 non tagliare, per sinistra 4, all'ingresso destra, sale, per destra 4 sale, per destra 5, prego, per sinistra 5, scelta l'ingresso destra, e al porticello per sinistra 4, a cello sinistra 4, a cello sinistra 100, per destra 3 non tagliare, a cello sinistra 6, a cello a cello sinistra 4, a cello sinistra 8, a cello sinistra, attento�� là come si salta, a sinistra 5, voce, a sinistra 4, a cello sinistra 4, a cello sinistra, attento lì come si salta, à sinistra 5 valoce, per destra 3, gripino, per destra 3, pieni destro, infilo, in sinistra 2 dentro, destra 3, infilo, in sinistra 2, per due campi destra 3, in sinistra 4, in sinistra 3, in sinistra, per destra 5, dosso, al centro, sinistra 3, in sinistra 3, per destra 4, in sinistra 3 dentro, per sinistra 5 stai al centro non va più la macchina non ti preoccupare per sinistra 5 verso destra 5 che diventa 4 sconnessa tieni sinistra per sinistra 4 le gomme no abbiamo rotto qualche mani sotto attento destro attento destro destra 5 e 50 per testa 3 sinistra 4 per destra 5 per destra 5 sinistra 5 veloce per destra 5 dentro e tieni destra per sinistra 4 che diventa 3 sinistra 4 diventa 3 per destra 5 tieni sinistra per destra 4 sconnessa e tieni destra e chiudi in sinistra 3 per destra 4 veloce 50 destra 4 e sinistra 2 dentro mi senti? si ti sento tranquillo sinistra 2 dentro e destra 4 attento è molto sconnessa si salta e ormai e vi do i danni per sinistra 5 accendo destro per sinistra 4 per destra 3 tieni destra per sinistra 3 lunga molto lunga per sinistra 3 lunga e stacca per destra 2 dentro In sinistra 2 è lunga, destra 2, in sinistra 2 è lunga, in destra 4 veloce, per accenno destro, per dentro destra 3, per destra 4, in sinistra 2 è lunghissima, stai dentro. Per destra 400, per destra 3, vieni destra, per destra 3 è 50, per destra 3 è lunga, e di nuovo destra 3, subito sinistra 2, attento si sortono la sinistra 2. E subito 2 torbide 7 sconnessi, la veloce che è finita, bagnate, è finita? Posso? Posso solo?